Prepariamo ora una classica maionese. Hotmix Pro Twin ha due bicchieri e due motori separati, quindi da un lato prepareremo a freddo la maionese, mentre dall'altro scalderemo l'aceto per sbiancarla. Versiamo l'aceto e a lame ferme portiamolo a 90 gradi centigradi. Nell'altro bicchiere versiamo le uova intere e il tuorlo fresco e cominciamo a miscelarle per qualche secondo a velocità 3. Quindi aumentiamo la velocità e versiamo l'olio a filo. Una volta che la maionese è pronta la sbianchiamo con l'aceto caldo miscelandola lentamente. Grazie a tutti.